Giordano Turati, amministratore delegato per TSEC, un'azienda di tipo nazionale dei produttori promotori di sicurezza. Ci siamo concentrati fin dall'inizio, quando siamo nati cinque anni fa, sullo sviluppo tecnologico della sensoristica per gli impianti di allarme, che rivoluzionasse un po' il concetto delle tecnologie tradizionali. Abbiamo introdotto, partendo dalle primissime produzioni, dei concetti nuovi di antimascheramento, per esempio nei contatti magnetici, che è un concetto molto forte, soprattutto per gli impianti residenziali. Siamo tantissimo al nostro fatturato in ricerca e sviluppo, perché abbiamo applicato un modello che è quello classico delle start-up, ma che ci consente di poter avere finanziato delle idee brillanti su dei progetti specifici. Questa cosa ci sta portando davvero dei grandi risultati, anche in termini di soddisfazione, perché stiamo creando tecnologia che viene direttamente dal settore e dalle esigenze del mercato della sicurezza. Grazie per la visione!